Il San Bernardo Meglia 1906 sta per chiudere la stagione in bellezza perché oggi porta a caso un risultato del tutto utile anche in vista dell'anno prossimo Innanzitutto vi facciamo presentare Mella Paolo, Matteo Carubini Dicevo risultato utile anche a livello morale anche in vista dell'anno prossimo ma saranno loro a raccontarvela la partita? Sì, abbiamo messo tanto cuore direi, tanta voglia, tanto cuore fortunatamente oggi eravamo al completo per cui devo fare i miei complimenti ai miei compagni di squadra che è andato veramente tutto e sono contentissimo di far parte di questa squadra Vuoi parlarci poi soprattutto del secondo tempo? Che il secondo tempo è stato il momento in cui avete fatto il 100%? Sì, il secondo tempo è stato molto più, diciamo, voluto la vittoria da parte nostra e come ripeto i ragazzi sono stati molto bravi a stare sempre concentrati fino alla fine non perdesse mai i danni o anche se eravamo sotto i due gol niente, ripeto, faccio i complimenti a tutti i miei compagni di squadra e sono contentissimo Come mai il vostro stile di gioco, anche quello che abbiamo visto oggi in campo non rispecchia proprio del tutto la classifica? Ma la continuità credo che sia stato il nostro tassello che ci è mancato in questa stagione un po' per qualche infortunio, un po' perché comunque la squadra era al primo anno e quindi c'era necessità di conoscersi meglio e di trovare l'amalgama giusto Domanda che mi hanno chiesto da fuori, ma oggi eravate sotto qualche risir per aver giocato così bene? Ma può darsi, può darsi infortunatamente il test antidoping non c'era nel nostro girone quindi lasciamo questo dubbio, soprattutto in difesa abbiamo avuto un paio di prestazioni veramente sopra le righe Grazie, grazie per la disponibilità ragazzi, in bocca al lupo per la prossima partita